30 gennaio 2021, l'Aquila e Tommy Captoi muore in canoa è uscito anch'io, però il tetto fa il resto di macchina è proprio freddo ma qui dove si intappi adesso? perché qui dentro l'acqua infatti il tetto di tetto è di distante qui toglie il tetto è di distante il tetto è di distante è da mese ecco la fine la fine l'acqua la fine la fine è la fine Grazie.